Un minuto di rumore per insegnare ai bambini il rispetto per le persone ma anche per la natura. Sì, in questi tre giorni sono venuti più di mille bambini delle scuole cassanesi per la festa dell'albero a piantumare delle piante. Ogni mezz'ora c'erano circa 60-70 bambini alla mezz'ora. E abbiamo messo giù delle piante che formeranno un boschetto dove verrà poi abitato da parecchi animali che vivono qua nel bosco di città. Troveranno il loro ambiente ideale per vivere in futuro. Cresceranno le piante come tutte, come dico sempre ai bambini, loro riescono a capirlo. I tempi della natura sono molto più lunghi dei nostri per cui ci vorrà del tempo prima che cresca il boschetto ma arriveremo a quello che vogliamo. Come sono arrivati i nostri nonni quando hanno messo giù i tiri del viale del cimitero che non l'hanno visto loro bello come lo vediamo noi ma sono stati lungimiranti. Hanno pensato a chi verrà dopo di loro e quello che stiamo facendo noi e quello che cerco di insegnare ai bambini. Pensare a chi verrà dopo di noi.